Ben tornati, oggi è il 4 dicembre 2018, sempre su CiperTV. Quest'oggi dovremo costruire un Heavyset 2 Hang Power Clean, seguito da 3 round e 15 metri front rack lunges, 10 bar piece, che vanno poi direttamente dentro 3 round e 10 power cleans e 10 bar piece. Pesi carichi sulla grafica qui di fianco, come al solito. Seguitici su Instagram per delle idee sul riscaldamento e sullo svolgimento della classe. Ci vediamo domani.